Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo nuovo test mod, test mod per console e per pc. Oggi vi porto l'Ors Terrano 4FX a Medi in Peppe, quindi il nostro Peppe 978, e Tycon Cat, spero di non sbagliare la pronuncia, perché è scritto con la i lunga, la i di yogurt, quindi non credo che sia Tycon Cat, credo che sia Tycon Cat. Comunque in ogni caso vi perdonerà, perché sapete me benissimo che io non è che mastico proprio l'inglese. Comunque, collaborazione appunto tra Peppe e quest'altro amico modder, ci portano l'Ors Terrano 4FX. Attenzione, non confondetevi con quello di default nel gioco, io sento già la vocetta che mi dice Robby, ma quello c'è già nel gioco di default? No, quello del gioco di default è da 3 metri, è il 3FX, questo è il 4FX e non a caso ne vedete due, perché i nostri amici modder hanno regalato una versione coltivatore ed una versione subsoiler al loro pubblico, ai loro giocatori, ai loro players, quindi direi che è il caso di comprarne due, proprio per dare questa idea di doppio attrezzo con doppia lavorazione. Come vedete ci sono anche i dentini differenti, vi sto facendo vedere le varie differenze. Va bene, i rulli dietro, poi abbiamo la possibilità di cambiare sia i dentini che i rulli, insomma adesso andremo a vedere le varie configurazioni, ma dove si trovano questi attrezzi? Allora, il coltivatore ovviamente si trova in categoria coltivatori, eccolo qua, eccolo qua, attenzione, è un coltivatore, non è un coltivatore superficiale, è un coltivatore vero e proprio, come questi qua a inizio gioco, come il suo fratellino più piccolo, 3px, quindi è un coltivatore. Qui possiamo appunto cambiare i dischi dietro, vedete? Smooth disc o jagged disc, ecco fatto. Come lo riconosciamo il coltivatore dal ripuntatore? Così, anche solo visivamente, che il coltivatore ha le ancore diverse, vedete? Il coltivatore ha queste ancore, diciamo, arrotondate, che vanno giù così, sinuose, mentre se noi andiamo nella categoria dei subsoiler, ovvero areggiatori, troviamo l'altro, l'altro, ovvero il ripuntatore e lo riconosciamo perché è attaccato dietro alle ancorette anche questa specie di frecce, di dentini, vedete? Doppie punte, quindi quello con le doppie punte è il ripuntatore, non vi potete sbagliare e anche questo ha la possibilità di scegliere i dischi tra smooth disc e i jagged disc, ecco qua, scegliete voi quello che preferite. Per quanto riguarda i cavalli richiesti ce ne vorranno ben 210 per l'arieggiatore, mentre per il coltivatore ve ne basteranno 150, ovviamente lavora in maniera più superficiale sul campo e perciò ne richiede meno. E io ragazzi vi ho portato la doppia prova sul campo, vedete? Attaccato qui all'andine abbiamo la versione coltivatore, mentre abbiamo il McCormick con dietro attaccata alla versione subsoiler, arieggiatore. Ma prima di tutto ciò volevo farvi vedere il dispiegamento dell'attrezzo con tutta la relativa animazione. Vedete? Ovviamente non è che potete andare in giro per strada con l'attrezzo aperto. Guardate qua tutta l'animazione spettacolare. Apri e chiudi, chiudi e apri. Bellissima. E beh, vale la pena vederla e rivederla perché noi queste cose le diamo per scontate ma i modder ci passano ore e ore e ore e ore di lavoro per animare ogni piccola parte, perciò è giusto anche mostrarla. Poi abbassate ed andate. Questa è la versione, ripeto, coltivatore. Eccola qua. Guardate come si muove, come scuote la barrettina con i segnaliti di pericolo. Anche il movimento destra-sinistra, non solo su e giù. Spettacolare, raga. Spettaculare. Spettaculare. Guardate come lavora bene. Ecco qua la versione coltivatore. Vi metto l'operaio perché così riesco ad andare dritto e farvi vedere le varie animazioni, anche quelle della terra che si scava. e mentre lui lavora io vi metto l'animazione, l'operaio sulla versione ripuntatore. Ecco qua che a differenza vi toglie anche lo stato di aratura. Dietro vi darà sempre la stessa texture perché vedete c'è il rullo che va comunque ad appiattire la terra, ma questa qua, a differenza dell'altra versione, vi toglie anche lo stato di aratura. Quindi io vi consiglio ovviamente vivamente, ovviamente vivamente bello. Vi consiglio ovviamente vivamente la versione col ripuntatore perché praticamente vi lascia la stessa texture, vi lascia coltivato, con in più vi toglie lo stato di aratura richiesta. Ma comunque poi fate quello che ve pare, insomma, che ve pare. Fate il che ve pare. Ragazzi, non se ne meritano 5 stellette i nostri amici modder che hanno fatto questa bellissima accoppiata di attrezzi. Io direi proprio di sì. Lasciate 5 stellette, commentate, fatemi sapere se vi gusta questa mod, che cosa ne pensate. Io vi ricordo che in descrizione trovate tanti link, tanti, tanti, tra cui quello per venirmi a trovare sull'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11.00 e alle 20.30 dove se avete Amazon Prime potete sostenermi gratuitamente con un abbonamento. Poi attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS